GENERAZIONE DI Allora, voi siete una banda molto particolare perché avete rubato a casa tutti gli strumenti, giusto? Sì, le nostre mamme piangono, i nostri padri ci stanno aspettando per un rimprovero doveroso. Va bene, la nostra trasmissione si intitola GENERAZIONE DI FENOMENI Sì, loro lo sono, ma lo sono dalla nascita, anche perché sono tutti professori musicali musicali che vengono tutti dai conservatori di Napoli, Caserta, Orsogna, poi c'è Crecchio Non c'è nessuno di Ortona? Di Ortona? No, i conservatori sono tutti usciti Ma non è lì i nostri? Sì, ma il conservatorio di Ortona ce n'è qualcuno Noi abbiamo un conservatorio a Ortona, di pomodori, però loro sono musicisti Loro sono musicisti, certo, loro vengono dal caffè Allora, il pezzo che ci dedica, che dedica alla nostra trasmissione, che è GENERAZIONE DI FENOMENI? Va bene Carolina GENERAZIONE DI FENOMENI Vi portiamo dove mai nessuno potrebbe portarvi, nel futuro GENERAZIONE DI FENOMENI GENERAZIONE DI FENOMENI CALLO CHEIRO FAGATI LA RUDIENA GENERAZIONE DI FENOMENI